Un nuovo monaventura fra i giovani italiani? Nuovo appuntamento con Mondazzurro, con Emanuele Tramacere, oggi vi parliamo di Elia Plicco, centrocampista classe 2007 del Parma, un Parma che è tornato a volare in Serie B verso la Serie A con un progetto giovane e fra i suoi giovani, giovanissimi, c'è anche questo talento. Nasce attaccante, si abbassa trequartista, nella interpretazione moderna del ruolo diventa mezzala, si sta specializzando in questo ruolo, però fisicamente è già abbastanza importante e ha il vizio del gol, ma soprattutto anche dell'assist per i compagni. Anche per questo ci ricorda un po' il Giacomo Naventura che abbiamo visto con la maglia del Milan, prima ancora che con l'Atalanta e la Fiorentina, è lì che si è specializzato in questo nuovo ruolo, molto simile a quello di Plicco. Plicco che nasce a Fidenza, tifosissimo del Parma, il Parma lo ha già blindato facendogli firmare il primo contratto da professionista, però c'è un legame con la Juventus nella sua storia, perché lui arriva nelle giovani del Parma dallo Juventus Club Parma, tra gli hobby ha il nuoto e lo sci, ma il suo sogno ovviamente è quello di arrivare in Serie A con la maglia del suo cuore, con la maglia giallo-blu addosso.